So lately, I've been wondering who will be there to take my place Allora, la qualità di ogni buon imprenditore, oltre ad avere cura dei particolari e cura dei loro clienti e forse la parola magica è rinnovarsi, rinnovamento bene, quello che hanno fatto i fratelli Alessio e Giuliano Concello trasformando i loro già bell'adorabar nel nuovo bar, rosticceria, pisteria, la piazza ovviamente loro offriranno la loro solta professionalità e un basso assortimento di prodotti dalle rosticceria che cura dei particolari, un ambiente nuovo, completamente rinnovato, bei colore rinnovato anche tutto il parco di arredamenti, tutto per offrire sempre maggiore qualità Guardate Guardate And maybe I'll find out a way to make it back someday To watch you, to guide you through the darkest of your days If a great wave shall fall and fall upon a song Then I hope there's someone out there who can bring me back to you If I could, then I would I'll go wherever you will go Way up by or down low I'll go wherever you will go Run away with my heart Run away with my hope Run away with my hope I know now, just quite how My life and love might still go on In your heart, in your mind I'll stay with you for all time If I could, then I would I'll go wherever you will go Way up by or down low I'll go wherever you will go If I could turn my time I'll go wherever you will go If I could make you mine I'll go wherever you will go 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 Grazie a tutti.